Premetto che il suo libro non ce l'ho. O meglio, una fotocopia. Se lei me ne potesse dare una copia magari con un autografo, mi farebbe molto piacere. Mi dispiace, ma non ce l'ho nemmeno io. È andato proprio a ruba. A quanto pare, sì. Immagino che quello che lei scrive, con impressionante meticolosità, sia tutto vero. Altrimenti Cefis l'avrebbe denunciata per diffamazione. Eppure lei non è stata denunciata, vero? No. Che io sappia, no. E neanche Cefis, se non vado errato. Questo non lo so, lo deve chiedere a lui. Ma lei perché ce l'ha tanto con Cefis? Senta, non per essere scottese, ma io quello che avevo da dire l'ho scritto. A lei perché interessa tanto il mio libro? Perché anch'io sto lavorando alla storia di Cefis. Per me Cefis è il perfetto demonio dell'Italia di oggi. E quindi potrei immaginare con quale avidità ho letto il suo libro. E quindi potrei immaginare con quale avidità ho letto. E quindi potrei immaginare con quale avidità ho letto il suo libro.